Ecco la massima altezza dalla quale ti puoi lanciare su questi blocchi senza morire di danno da caduta Caduta massima sulla terra normale è 23 blocchi e si rimarrà proprio con mezzo cuore Per la paglia invece sono addirittura 99 blocchi e anche questa assurda Per i letti invece 46 blocchi addirittura però fermi... Ehm ok no si rimane vivi perfetto Ed infine per ragnatele, acqua e slime i blocchi di caduta saranno infiniti Mi raccomando iscriviti al canale e lascia like